Questo è un video e questa è una cosa bella che vogliamo condividere con voi. Siamo alla tenuta tramontana, casale 1890. E sapete chi sono loro? Loro! I primi sposi! I primi sposi, coloro che ci hanno scelti per primi nel 2009. Cari voi che guardate il social, che guardate il canale di Laura, siamo felici di presentarvi. Sara e Ferruccio! Sono meravigliosi, sono delle persone eccezionali, sia a livello umano che a livello lavorativo. Sono veramente dei grandi, credenti loro come abbiamo fatto noi per tirare un bene peggio. Tanti cuori ragazzi, tanti cuori! Un mega abbraccio! Ciao! Ciao!